Un solo successo nelle ultime dodici partite e una lunghissima serie di pareggi da cancellare al più presto. È più chiaro che mai l'obiettivo per il Palermo che domani pomeriggio ospiterà al Renzo Barbera la SPAL. Contro la formazione di Oddo i Rosa inseguono i tre punti ed anche l'obiettivo playoff che classifica alla mano sembra davvero ad un passo. Soltanto un punto separa la squadra dall'ottavo posto ma per poter ambire a qualcosa di importante è assolutamente obbligatorio un cambio di registro. Il cammino in campionato del Palermo nelle ultime settimane è da zona playout. Contro la SPAL è la penultima sfida interna della stagione regolare. Poi ci saranno le gare con il Cagliari e ancora in Viale del Fante contro il Brescia. In tema formazione con Sarici ancora indisponibile Corini deve sciogliere qualche dubbio a centrocampo. C'è infatti il rientro di Aurelio mentre in attacco non sono escluse sorprese come nelle ultime settimane. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco rispetto a Como. In mezzo al campo Valente va verso il rientro dal primo minuto mentre sulla fascia opposta c'è il ballottaggio fra Aurelio e Sala. In avanti posto assicurato per Brunori da decidere il partner fra Soleri e Tutino. La sfida fra Palermo e SPAL si gioca domani alle ore 16 e 15.